io non lascerei cruciani in stanza da solo con nessuna donna che conosco cui tu non capisci io non ho mai toccato una donna in vita mia senza consenso amico mio per cui non insinuare follie perché altrimenti vengo dove sei ok ragazzi come state benvenuti in questo nuovo video dovete sapere che fino a poche ore fa me ne stavo tranquillo nel chilling quando a un certo punto ho aperto i dm e ho notato diverse persone che mi mettevano al corrente del fatto che uno dei meme viventi di questo canale il femminista di tiktok è stato completamente distrutto e umiliato da giuseppe cruciani in diretta ora in questo momento io mi sento quasi in imbarazzo a dirlo perché sono certo che lo stiate già pensando tutti la mia prima reazione quando ho letto che messaggi è stata no bro cioè for real ma la mia seconda reazione è stata ok qui per forza dobbiamo fare una reaction e mostrarla a tutti voi anche perché su questo tizio che è il peggior tiktoker femminista a mio parere possiamo dire tante cose ma non certo che gli manchi la capacità speciale di umiliarsi da solo ovunque vada senza che gli altri facciano nulla e per questo in fondo gli vogliamo bene al nostro alessio per le risate e il content che ci regala e per questo alessio se stai guardando questo video sappi che ti mandiamo un saluto un abbraccio e un abbro cioè for real ma senza perdere altro tempo in chiacchiere direi che iniziamo a vederci l'ennesima figuraccia del nostro amico prima però brevissimo contesto per capire cosa è successo questo tizio se ancora non lo conoscete sappiate che ci sono diversi video sul canale che vi consiglio è un tiktoker femminista che fa video totalmente deliranti e cruciani un conduttore del programma radio la zanzara ha detto in una puntata come uno sguardo naturalmente non può essere una molestia e indovinate cosa ha fatto il nostro alessio ormai lo conosciamo gli ha fatto un video contro in cui lo insulta e dice che per lui guardare una ragazza invece è una molestia uno sguardo può essere molestia secondo lei assolutamente sì ma lo sguardo non è molestia è un tizio che ha 50 anni c'ha una figlia e non capisce il concetto di molestia ma un tizio arriva da questa età che in diretta radiofonica palesa di non capire il concetto di consenso il concetto di molestia il concetto di disagio causato anche soltanto da uno sguardo viscido nah bro for real il concetto di consenso per uno sguardo aspetta che prima di guardarti ti passo un documento su cui puoi firmare per darmi il consenso di poter rivolgere lo sguardo nella tua direzione il tutto naturalmente in presenza di notaio per confermare il gesto io vi dico solo che alle stronzate che spara alessio ormai sono completamente anestetizzato cioè ormai non mi fanno neanche effetto perché a questo punto lo considero al pari di maria sofia un meme vivente ma cruciani invece ne ha parecchie cose da dire quindi ascoltiamo insieme cosa gli risponde faccio sentire uno youtube per un influencer sentiamo sentiamo io non penso di avere nessun tipo di parola per descrivere il livello di schifo che provo guardando queste clip e detto con tutta la sincerità che ho nel corpo io non lascerei cruciani in stanza da solo con nessuna donna che conosco vedi questo coglione che non so manco come si chiama allora già questi primi secondi ci danno un grande indizio su come cruciani gestirà questa risposta all'unico uomo al mondo che parlava con le donne allora io una cosa la dico non condivido questa cosa di insultare le persone di cui si parla questo non perché non esistano persone che si meritano di ricevere insulti o perché rientrano perfettamente nella definizione di quegli insulti ma più che altro perché non penso che sia necessario soprattutto quando si ha a che fare con certe persone che dicono cose oggettivamente sbagliate ed è sufficiente argomentare per smentirli e inoltre ti fa passare un po anche a te dalla parte del torto perché poi uno potrà dire beh sì lui ha ragione però ha insultato quindi sbaglia un po anche lui e sono pari poi ovviamente cruciani nel suo programma ha un registro ben preciso ed è tutto un altro contesto e lo capisco un'altra cosa però ancora più grave è quello che il tiktoker ha detto su cruciani cioè ha letteralmente detto che non lo lascerebbe vicino a una donna perché chissà cosa gli farebbe cioè questa è un'accusa gravissima lo sta accusando di essere un molestatore qualcuno che fa cose non consensuali qualcosa di pericoloso era ancora più grave sapendo che questo qua si era totalmente inventato che io l'avrei accusato di essere un addescatore cosa già totalmente smentita in questo video e ha fatto la vittima per giorni nelle storie per qualcosa che nessuno gli ha mai detto e poi che fa accusa gli altri di essere dei molestatori fantastico questa penso che possiamo aggiungerla alla lista di cose completamente incoerenti che ha fatto o detto questo tizio attualmente se controllo bene la lista dovrebbe essere la posizione il numero 7593 si chiama Maronne questo sbaglia cioè pensa che io siccome del fatto che non può essere ritenuta una molestia lo sguardo diciamo lo sguardo non può essere ritenuto una molestia che è di tutta evidenza no questo cretino totale che si chiama Maronne dice che non lascerei una donna io non ho mai toccato una donna in vita mia senza consenso amico mio per cui non insinuare follie perché altrimenti vengo dove sei e te ne dico due un tizio che ha 50 anni e non capisce il concetto di molestia cioè io al massimo posso capire il ragazzo di 20 anni che vabbè magari ha 20 anni e non ha avuto il giusto input e glielo dobbiamo ancora spiegare ok la parte in cui dice che il ventenne lo capisce perché testualmente noi glielo dobbiamo ancora spiegare è un capolavoro cioè Alessio ormai sai quanto ti vogliamo bene per tutti i meme e le risate che ci ha regalato nonché per averci dato il miglior meme del canale del 2024 cioè il nabbro for real ma insomma dopo aver visto i tuoi video e constatato gli evidenti e gravissimi problemi nel creare discorsi di senso logico l'incapacità di leggere e capire dati e l'inventarsi di teorie senza senso se dovessi stilare una classifica di chi è in grado di insegnare agli altri come sarà il mondo non penso che ti metterei nei primi 7 miliardi di riposti ecco sinceramente ancora non capisco come cacchio faccia ad avere un programma è lo stesso motivo per cui tu ti chiami Maron e io sono Cruciani è esattamente lo stesso motivo perché tu non capisci un cazzo questo è il punto fondamentale adesso fammi essere cattivo una volta tanto contro uno che dice queste cose qua cioè il punto era solo uno io ho detto che lo sguardo, uno sguardo non è mai molestia mai e sono arci convinto di questo non ci sarà mai nessuno che associerà uno sguardo a una molestia chi lo fa è un cretino ragazzi non so se ci rendiamo conto che siamo arrivati nel 2024 dopo tantissimi anni di evoluzione della nostra specie e siamo davvero arrivati al punto in cui si discute se uno sguardo guardare una persona è una molestia e quindi la persona che lo fa un molestatore dover davvero spiegare questa cosa lo considero un insulto alla mia intelligenza e anche alla vostra un semplice sguardo senza nessun altro gesto o azione chiaramente non è una molestia tra l'altro nel video dice che Cruciani non capisce il consenso quando si parla di uno sguardo ricordiamoci questa cosa poi che qualcuno possa non piacere se una persona guarda te in qualche contesto naturalmente ci può stare ma da qui a definire un molestatore un tizio perché ti ha guardato ci passa veramente tanta roba cioè per un banale gesto come uno sguardo che non è assolutamente illegale non si può considerare una molestia una persona che viene guardata perché non gli piace essere guardata e la considera una molestia su parametri completamente personali e soggettivi che non seguono nessuna logica e nessuna legge non è così che funziona altrimenti ogni singola cosa o azione è una molestia se qualcuno decide che lo è io posso decidere che una persona che cammina per strada su marciapiede nella mia direzione mi causa una forte sensazione di disagio perché lo fa senza il mio consenso e per questo è un molestatore, è una molestia o qualcuno può dire che il fatto che questi video di Alessio in cui dice queste stronzate gli compaiano nella home del suo profilo senza che lui l'abbia seguito o dato il suo consenso gli causa questa sensazione di fastidio e si sente molestato cioè tutte cose ovviamente ridicole e tra l'altro la cosa preoccupante è che c'è davvero gente che la pensa come lui credo che onestamente la stessa parola molestia a questo punto sia stata molestata dato che il suo significato è stato talmente tanto allargato che qualsiasi cosa può esserlo cioè secondo loro nel 2024 se una ragazza ti racconta che è stata molesta ti potrebbe dire che un vero maniaco le ha messo le mani addosso oppure uno sconosciuto seduto a fianco a lei sull'autobus le ha rivolto lo sguardo per mezzo secondo queste cose sono esattamente quelle che sminuiscono e ridicolizzano il significato di quelle parole e di quello che è un vero reato da punire vabbè sulla parte che i discorsi che fa lui li capisce un bambino delle elementari posso anche essere d'accordo ma proprio perché sono discorsi ridicoli e senza alcun senso logico che solamente un bambino potrebbe dire boh vabbè magari c'ha ragione ed è più o meno anche il livello mentale di chi la pensa come lui poi però quel bambino arriva alle medie cresce un attimo e si mette a prendere in giro anche lui quando capisce quello che dici peccato però che ci sono persone che con la maturità mentale logica e cultura restano per sempre per tutta la loro vita a livello della terza elementare e così si spiega al seguito che hanno alcuni profili abbiamo già dato troppo spazio a questo qua forse gli abbiamo donato qualche minuto di celebrità vabbè raga Alessio il dittatore supremo si è espresso smettiamola di seguire programmi che non condividono le follie che spara lui da oggi è ufficiale è una regola mi spiace ha deciso così comunque una cosa l'ho notata ormai mi è capitato di vedere diverse puntate della Zanzara dove vengono invitati i personaggi del web che sono molto particolari tipo il Bavaro, Maria Sofia, Neviolo Stirato, il Brasigliano eccetera e il nostro Alessio devo dire che in mezzo a tutta questa fantastica fauna non stona affatto anzi ci potrebbe stare bene finalmente forse ha trovato il suo spazio nel mondo del web e siamo tutti contenti per lui l'unica cosa divertente è che non posso fare a meno di constatare anche stavolta e come in qualsiasi posto lui vada non riesca a fare a meno di farsi umiliare da solo semplicemente parlando ma ormai abbiamo imparato a conoscerlo quindi non c'è neanche niente da stupirsi in ogni caso per questo video penso che sia tutto quindi fatemi sapere la vostra opinione e soprattutto quale sarà il prossimo programma o contesto in cui questo tizio si proporrà per farsi umiliare l'ennesima volta io ringrazio tutti gli abbonati al canale per il supporto e noi direi che ci becchiamo alla prossima